Salve a tutti, bentornati sul canale, qui è Massimo Rea. Oggi andiamo a studiare della situazione di Bitcoin, perché il bear market è scampato oppure meno. Le altcoin, molte, sono già in bear market, sono già in anzitempo in un trend ribassista, ve lo abbiamo anche mostrato più volte sul canale. Però Bitcoin attualmente, a livello di questo grafico che vi mostriamo già da un bel po', abbiamo avuto una reazione a questo livello di resistenza, supporto, resistenza, supporto, e sembra che stiamo avendo un ulteriore supporto. Andiamo a studiare la situazione per capire come siamo messi. Salve a tutti, bentornati sul canale, e se questo video sarà per voi utile, spolliciate, mi raccomando, aiutate il canale semplicemente mettendo un like, è gratis, e in questo modo, invece, aiutate il canale a crescere. Grazie a tutti. Allora, partiamo da come ci siamo arrivati ad oggi. Cioè, quando abbiamo identificato la distribuzione di Wyckoff, sapete benissimo che siamo andati in protezione short, aspettandoci uno scarico importante. Così fu, e ci regalò poi uno scarico, ovviamente, fino alla massima armata, di cui vi parliamo ormai da anzitempo, sapete benissimo che, e che cosa abbiamo fatto, per chi mi segue su Instagram, perché, al tocco di questo livello, che è il massimo POC, Point of Control, è il livello che, ovviamente, ha il massimo interesse da parte dei buyers, a questo livello di prezzo. Ha dato la sua reazione, ma in confluenza avevamo in supporto anche Tether, che era arrivata con la sua dominance, a livello di resistenza più importante. Qui, in confluenza tra Bitcoin, che era arrivata al POC, e Tether, che era arrivata alla massima resistenza, potevamo avere uno shift della liquidità da parte degli criptoinvestitori, da dominance, da Tether, che è una stablecoin in protezione, quando tutto va male, verso, appunto, Bitcoin e altri asset. Così è stato, infatti, come potete notare, Tether ha fatto la sua correzione. Ora, ciò che avverrà nel futuro, lo andremo a vedere tra poco, perché, ovviamente, ciò che avevamo mostrato di questa, di questo grafico logaritmico, siamo andati a resistere, scusate, a supportare questo livello, adesso dobbiamo effettivamente vedere, cosa accadrà. Noi ci siamo visti là, in questa settimana, e avevamo identificato ad H4, due livelli contrastanti, di cui un POC di supporto, e una possibile distribuzione, con un'inefficienza, che poteva rigettare il prezzo, con, in confluenza, la trend discendente. Qui, come potete vedere, ovviamente, uno dei due avrebbe avuto la maggiore, ed è stato così, è stata la parte dei buyers, a distruggere quel livello. Ora siamo entrati, uno, nell'area della massima resistenza, di questi minimi, e questi massimi precedenti. È un'area di attenzione, che potrebbe dare, tranquillamente, fastidio. Potremo andare a filare, questa candela, totalmente inefficiente, e poi, tentare l'attacco, verso dove? Verso, ovviamente, l'armata, dei sellers. Perché, qui, avremo poi, a che fare, con, un livello importantissimo, perlomeno la prima armata, ce ne sono più di una, del POC più forte, dell'area di accumulo, qui sopra. Non è detto, che ci arriviamo, direttamente, potremo avere, delle fasi, ancora di debolezza, o di lateralità, o di, meglio ancora, di accumulo, o, peggio ancora, potremmo tornare, a ritestare, l'area del POC, della massima armata. Questo dipende, ovviamente, da quanta forza c'è, dei sellers in quest'area, che, non abbiamo alcuna conferma, ad oggi, ma l'unica cosa, che potrebbe essere, preoccupante, è vedere, che la dominance di Tether, arriverà qui sotto, dove c'è, il massimo supporto possibile, dove potremmo vedere, uno shift, da parte, dei cripto investitori, da, da, shift di liquidità, da parte, verso Tether, da, da, le cripto più volatili. Quindi, con una confluenza, che potrebbe presentarsi, di, la dominance, che arriva qui, e Bitcoin, probabilmente, possa arrivare, alla sua massima armata, dai sellers, potremmo avere, una reazione decisa. Ovviamente, questi non sono, consigli finanziari, sono qui, solo per mostrarvi, il mio lavoro, e se lo apprezzate, fatelo con un bel like, iscrivetevi al canale, e ci vediamo, ai prossimi aggiornamenti, se volete essere aggiornati, e, interagire con noi, potete farlo, nel nostro gruppo, Discord, link in descrizione, ovviamente gratuito. Ciao a tutti, da Massimo Rea.